Facciamo un po' di tipo osservente, quello di più elementare e media, tipo quello che si riceveva durante un film, potete si addormentare un po' di tempo. Spero davvero che questi gattini, così, mi stiano piaciuto. È un video molto semplice, ma secondo me è molto da fare. Grazie. Sicuramente tutti noi, nella nostra vita, abbiamo fatto l'odio di domanda. Mi fai i gattini? Non c'è nessuna di quale ha fatto possibile. Non so se li chiamate gattini o... Non so come chiamate. Grazie. 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 qui con noi e e ciao ragazzi grazie di essere come oggi oggi altro video diciamo un massaggio ma questo video sarà direttamente di tracing e di diciamo scrittura di parole più che altro quindi non ci sarà nulla di massaggio di sé però prima voglio fare un po' di minuti toccando un po' i capelli perchè uno mi sa che mi piace tanto i due adesso sono appena davanti sono un po' di sordine hanno un po' di nodi e poi non sono stupendo con un po' di un po' di che si Ricordate che se vi sta piacendo il video potete farlo capire con un commento e con un mi piace che aiuta tanto il canale.